Guarda, vedi? Vedi che qui la parte chiara si è espansa? È come se l'osso si fosse mangiato tutto il calcio che poteva, capito? Tipo Pokémon, hai capito? E questo infatti si chiama la sindrome dell'osso affamato, che non è altro che... Oddio, ma che ti sto annoiando? È solo anche due ore che parliamo di analisi, d'altro. No, scusami, scusami, hai ragione. Anch'io me lo dico sempre da sola, Raffaella, basta parlare di malattie. La vita è bella, va vissuta. Dai, musica! Musica, musica! Dai, lasciati andare, che ti frega, dai! Ah, mi hai presa la rotola. Eh, vabbè, è su questo, dai. Dai! Mi hai presa la rotola. Ma dai che non ti ho fatto niente. No, 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 fa malissimo, fa malissimo. Eh dai, che pigrone. Dai, no, no, fa male veramente. Eh, su, ma che te devo convincere? Dai, no, 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 dai, tu ti prego. Oddio, perché ti sei fatto male? Un taxi. Che è l'ombare o cettigale? Eh? Ma vaffanculo, ho chiamato un taxi. Toghiamo. Eh? Siamo qua. Siamo qua.